. Io ero consapevole di voler esplorare questo mondo e per farlo dovevo sentirmi lì. Non potevo farlo con dei vincoli su un altro o un altro, adesso forse sarebbe pronto, anche se non ha una compagna ed è ancora molto sensibile a Paola Barale, è bastata una sola domanda di costanza Non posso farlo bacillare? La Barale l'hai più vista? Ha chiesto, e lui inmarazzato, Maurizio con questa domanda sono scivolato fuori dal panico, nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà